Mi è piaciuta la squadra che ha fatto una partita straordinaria, eccezionale, primo tempo stratosferico, siamo andati oltre gli episodi negativi, abbiamo fatto una partita di 90 minuti di grande intensità, di assoluta, come posso dire, giocando a Cesena, primo tempo potevamo finire con 5-6 gol, poi nella ripresa purtroppo c'è stato questo incendio di percorso, la squadra ha saputo reagire anche alle difficoltà, perché sono stati episodi che hanno bilanciato il risultato di una partita assolutamente a noi dominata e strameritata di vincere, alla fine siamo riusciti a portare a casa tre punti che sono vitali per noi, frutto di una grande prestazione e di un grande cuore dei ragazzi che, come ho detto prima, sono andati anche oltre gli episodi, perché l'episodio è un lampo, è una cosa che si materializza e fine a se stessa l'episodio, la prestazione, la determinazione del carattere, la squadra ci ha messo per tutti i 90 minuti e questo merita un grandissimo elogio. La squadra ha fatto una partita straordinaria, intanto per come ha giocato, la seconda cosa è perché ha saputo reagire agli episodi negativi, perché se una squadra non ha le palle, scusate il termine, di fronte alle situazioni così si può anche scoraggiare, invece noi non ci siamo scoraggiati, siamo venenati ancora di più, volevamo questi tre punti e abbiamo tenuti.